Spegne 25 candeline la maratonina città di Arezzo ed è pronta a tornare domenica 27 ottobre con Via Roma, sede di partenza ed arrivo. Come da tradizione l'organizzazione dell'Unione Polisportiva Policiano in collaborazione con il Comune di Arezzo. Quest'anno la novità principale sarà il percorso, saranno tre giri, uno piccolo alla portata di tutti, quasi tre chilometri, poi uno intermedio, nove chilometri e poi l'ultimo, ovviamente quello per i professionisti della corsa, 21 chilometri di 097. Sarà un percorso spettacolare nuovo e quindi con caratteristiche anche più veloci che permetteranno agli atleti di ottenere anche risultati tecnici più importanti. Ovviamente partiremo dal venerdì sera in cui ci saranno la consegna dei pacchi gara e pettorali in piazza Jacopo, dalle 15.30 alle 19, poi il sabato tutto il giorno, dalle mattine alle 9.30 fino alle 19 del pomeriggio e poi ovviamente la domenica mattina alle 9.30 la partenza di oltre 1.300 iscritti al momento. I protagonisti principali saranno gli atleti che vengono da fuori Italia, però oramai lo sappiamo, però ecco per Arezzo sicuramente sarà un grande spettacolo. Come sempre il rovescio della medaglia sono i disagi che ci saranno chiaramente per il traffico e per la sosta, disagi limitati alla domenica mattina, chiediamo come sempre collaborazione e pazienza da parte dei cittadini che anzi invitiamo chi vuole e chi può a partecipare direttamente alla maratonina oppure a godersi questo spettacolo. La manifestazione anche quest'anno sarà vissuta all'insegna dell'inclusione, della partecipazione delle scuole e della prevenzione del tumore al seno. Non a caso la maratonina 2024 sfogge una locandina dominata dal colore rosa. Una manifestazione che unisce una parte agonistica stupenda, una parte legata alle scuole, la partecipazione del calcit per la prevenzione non fa altro che riunire insieme tutti quella serie di aspetti che nobilitano lo sport e che ne fanno un veicolo importantissimo di valori importanti e che servono anche a far crescere meglio i nostri ragazzi. È un bel modo, è un modo giocoso, anche condiviso con tanti ragazzi e con tanti atleti di fare sport e quindi di avvicinarsi e di provare a comprendere quanto importante sia l'attività fisica nello sviluppo psicofisico appunto di questo bacino di utenti che sono i nostri ragazzi del mondo scolastico.